Non bastano i saldi a risollevare un'economia in crisi, la gente spende sempre meno e l'inizio degli sconti non sta avendo gli effetti sperati dai commercianti aquilani. I saldi, come il resto della stagione, sotto tono, ma il paradosso è questo, secondo me, è che si pensa che i saldi possano risolvere una stagione. Il saldo dovrebbe servire per concludere una stagione magari andata più o meno bene. Però, dato che non è questa stagione, sono numerevoli stagioni che purtroppo stiamo faticando e il saldo aiuta, ma non risolve i nostri problemi sicuramente. L'abbigliamento è il settore dove si tende a risparmiare di più, ma la crisi è generale e più grave in una città colpita dal terremoto. La crisi, c'è crisi, c'è crisi come da tutte le parti. Da noi, è inevitabile ricordarlo, dopo il terremoto c'è stato un cambiamento epocale, chiaramente. Secondo il mio punto di vista lo risentiamo ancora di più rispetto a altre città, chiaramente. Allora, lei ci faccia un esempio concreto. Per una scarpa, ad esempio, che è l'articolo che poi lei vende, quanto è disposta a spendere una persona? Il prezzo è molto relativo, chiaramente dipende dal prodotto che dai. È vero che si è abbassato di molto il budget di spesa della gente, perché ci sono meno soldi, quindi hanno meno soldi e quindi si cerca di risparmiare. Chiaramente si sfrutta il saldo per acquistare un prodotto di ottima qualità a un prezzo sicuramente interessante.